A breve distanza da Roma e a pochi passi dal Parco Nazionale del Gran Sasso, si trova la suggestiva cittadina di Colledara. Qui, da molti anni, Saint Cobain Abrasivi produce flap disc di alta qualità distribuendoli ai clienti di tutto il mondo. A Colledara le persone costituiscono il cuore pulsante della fabbrica. Rappresentano un team forte, costruito tenacemente nei molti anni di stretta collaborazione reciproca. La chiara dinamica collaborativa, in cui il contributo di ogni persona viene ascoltato e valorizzato, avvolge il team. Nel vero stile italiano, qui ognuno mette passione, talento ed entusiasmo nel proprio lavoro. Ogni persona si impegna a fondo per produrre il miglior prodotto possibile per il cliente. Il valore aggiunto viene conferito al prodotto passo dopo passo, dalla fabbricazione alla verifica finale. Queste persone sono tecnici specializzati. La loro ricchezza di competenza ed esperienza li rende tutti veri e propri conoscitori profondi dell'abrasivo. Lo stabilimento di Colledara è stato elogiato in molte occasioni per i suoi elevati standard di salute, sicurezza e benessere dei dipendenti. Questa cultura e HS è evidente in tutto il sito. La fabbrica è orgogliosa di perseguire il miglioramento continuo, dallo sviluppo della qualità e delle prestazioni del prodotto all'investimento in nuove tecnologie. La sensazione di familiarità e lo spirito di squadra qui sono innegabili. Il team di Colledara conta poche persone, ma esprime una grande personalità ed ogni membro è orgoglioso di dire che i prodotti in orto non sono fatti da me. Grazie per la visione!